È una settimana intensa e importante per la vertenza Electrolux. Sarò presente lunedì in quel di Susegana con il Consiglio Comunale Aperto, la presenza dei sindaci, di tutte le istituzioni e ovviamente di lavoratori. La filosofia è quella di salvaguardare anche l'ultimo posto di lavoro nel nostro Veneto, nella marca trevigiana, in un contesto economico nel quale mancano 170.000 posti di lavoro che corrispondono a trentanti disoccupati. Dall'altro appuntamento importante, martedì mattina, ore 11, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, i quattro governatori coinvolti nella vicenda Electrolux, ovvero il sottoscritto, la Lombardia con Roberto Maroni, i Friuli Venezia Giulia con Deborah Seracchiani e l'Emilia Romagna con Vasco Errani.